Un saluto a tutti gli amici di Unibet, dunque parliamo di Premier League e parliamo degli appuntamenti della fine settimana, in particolare quello che apre poi il weekend di calcio inglese, la sfida tra il Chelsea e il Leicester, due ritorni, due rendezvous molto significativi, uno soprattutto dal punto di vista emozionale con l'allenatore del Leicester Claudio Ranieri che ritorna a Stamford Bridge dove ha lasciato splendidi ricordi, dove riceverà un'accoglienza sicuramente molto positiva come è già stato poi anticipato anche da alcuni suoi ex giocatori. Dall'altra invece un rendezvous che potrebbe spostare qualcosa sul campo, mi riferisco a Canté che lo scorso anno è stato uno degli artefici del trionfo sorpresa del Leicester, quest'anno è in forza al Chelsea di Conte, la sua assenza si sente nel centrocampo del Leicester e sta pian piano portando dei benefici per quanto riguarda invece lo scacchiere di Antonio Conte. E' chiaramente una sfida dove Antonio Conte si gioca molto di più rispetto a Claudio Ranieri perché Conte quest'anno ha la necessità di restare comunque sempre attaccato, incollato al treno delle prime, mentre il Leicester ha anche la valvola di sfogo se vogliamo della Champions League da onorare come sta facendo fino a questo momento con il campionato dove c'è sicuramente molta meno pressione addosso e c'è in ogni caso la richiesta di fare un campionato tranquillo e nulla più come in effetti sta succedendo. Per questo dico che è altamente probabile un successo del Chelsea, magari anche con tanti gol nello stile del calcio inglese. Un saluto a tutti gli amici di Unibet e ci risentiamo nel weekend perché ci sono tante altre partite e tanti altri eventi da commentare. Grazie. 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 Grazie.